Salve, io sono Max di Volpe Motor e Lifestyle Code, un'associazione sportiva che presentiamo spettacoli stand freestyle in tutta Italia con i code. Invece come Volpe Motor sto presentando qua in fiera questo mio prodotto che è un code, l'unico code ad alte prestazioni bicilindrico costruito da me con marchio registrato e brevettato, monta il famosissimo motore Aprilia bicilindrico SXV 550 in questo caso, questo mezzo è di un francese e farà gare in salita, è un campionato francese che fa soltanto gare in salita, è un motore che ha attualmente 80 cavalli all'albero e fa in 600 metri partenza da fermo, 183 km orari, è un gioiello tecnologico.